Ciao, come rendere un uomo dipendente da te? Se vuoi rendere un uomo dipendente da te, devi creare una dipendenza. Una tecnica utile è quella del love bombing, del bombardamento d'amore, cioè dimostrarti affettuosa, dolce, geisha, sempre disponibile nella fase iniziale, e poi iniziare a togliere. Questa fase non deve essere molto lunga, deve durare il tempo necessario a creare un'abitudine, quindi una ventina di giorni, 21 giorni, non di più, poi da lì praticamente il picco per creare un'abitudine, andando gradualmente in crescendo, poi vai gradualmente in decrescendo fondamentalmente. Ed è sulla fase di decrescendo che lui svilupperà dipendenza, perché vorrà ripristinare la condizione iniziale e quindi per ripristinare la condizione iniziale cercherà di fare delle cose di avvicinamento e questo lo renderà dipendente nel momento in cui sarà costretto ad inseguire. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!